Grazie Presidente. Colgo l'occasione per elogiare il lavoro fatto dalla Commissione di cui faccio parte per sottolineare alcune differenze tra noi e voi. Allora si sta parlando, adesso si mette in discussione quanto viene svolto in Svizzera per quello che riguarda la democrazia diretta. In Svizzera il cittadino viene informato mandandogli a casa i contenuti rispetto ad ogni referendum e fanno referendum praticamente ogni mese. I contenuti all'interno di un fascicolo in cui vengono spiegate tutte le ragioni del sì e del no in dettaglio, con tutti i riferimenti normativi, con quello che significa anche rispetto ai benefici economici, ma non solo, con tutti i riferimenti rispetto alle attività virtuose o meno che ogni ragione del sì o del no sostanzia. Questo si chiama mettere il cittadino al centro della politica, dargli la possibilità di avere conscienza e consapevolezza di quello che dovrà andare a decidere, com'è il suo diritto, se veramente vogliamo chiamare uno Stato sovrano rispetto al popolo che governa. Ecco, noi stiamo invece in una nazione dove voi, quando non siete stati d'accordo, invece di fare questa attività, invece di portare lo Stato verso questa emancipazione, è una cosa del tutto naturale far crescere il proprio popolo anche in questa direzione. Gli avete detto, andate al mare. Avete consigliato più volte, ogni volta c'era un referendum, qualora non eravate concordi, gli avete consigliato di andare al mare. È accaduto più volte, non lo ha fatto soltanto Craxi, lo avete fatto tutti. Questo è il vostro modo di aver inteso la democrazia diretta. È il modo con cui falsificate quotidianamente ogni contenuto. Lo avete fatto sempre, adesso lo state facendo a maggior ragione con questa forza politica, espressa da cittadini. Stamattina all'ennesimo teatrino, sulle Fontanelle. Ecco, questo è del 28 luglio, un indirizzo molto chiaro, una direttiva data dalla Regione Lazio. Intensificare la campagna di manutenzione straordinaria delle reti, già avviata dal gestore di Ato2 per il recupero delle perdie della rete idropotabile. Attenzione. Compresa la chiusura progressiva delle Fontanelle. 28 luglio, Regione Lazio. Ora, ci avete anche accusato oggi che vi abbiamo copiato gli atti. Adesso direte che la Raggi vi copia anche il simbolo della Regione di Zingaretti. Eccolo qua. È questo, Regione Lazio. Allora, sta qui, se vuoi te lo spedisco, dammi la tua mail. Sta qui, ok? Allora, no, c'entra perché c'entra perché voi, e questo è il modo con cui informate la cittadinanza. Continuamente, ogni giorno, anche il teatrino è oggi sui rifiuti. Non volete ammettere che il vostro Presidente della Regione, Lazio, in cinque anni non ha fatto un piano regionale sui rifiuti, nonostante avesse sul groppone una sentenza del TAR, un tribunale amministrativo che entro 180 giorni, dal 6 marzo 2016, imponeva di adeguare la Regione con una rete integrata di impianti, capace di autosostenere, così come è sempre stato, fino a, tra l'altro, l'articolo 35 dello sblocca Italia del vostro amato Renzi, che dà la possibilità limitata di poter conferire i rifiuti fuori regione. Zingaretti l'ha fatto dal 2013, quando ha chiuso Malagrotta, tutti gli anni, conferendo i rifiuti di Roma Capitale fuori regione. Adesso la colpa è solo della Raggi, quando chiede 15.000 tonnellate a una regione amministrata dal PD. Siamo veramente alla frutta, cari ragazzi, non sapete più a cosa appellarvi, costruite teatrini quotidianamente. La differenza tra voi e noi è questa, ci siamo presentati come cittadini, come movimento, e arrivo alla delibera, come movimento politico. Le leggi che voi avete costruito ci hanno obbligato, viste le numerose sentenze, i contenziosi, a doverci determinare in maniera strutturata, in una maniera tale che oggi venite a sottolineare il fatto che siamo diventati un partito. In realtà noi siamo quel movimento che eravamo nel 2009, cittadini che entrano nelle istituzioni per consentire ad altri cittadini di fare altrettanto, per consentire durante i cinque anni di mandato, come in questo caso la delibera, a dei cittadini di fare dei referendum propositivi. Oggi è una giornata storica, è la prima volta che succede a Roma. Questa cosa voi non l'avete mai fatta perché vi spaventa, perché nei cinque anni voi avete sempre voluto fare quello che vi pareva, compreso esattamente il contrario di quello che avete sempre promesso in ogni campagna elettorale. Ebbene, noi vi stiamo dimostrando che i cittadini piano piano non solo stanno entrando nelle istituzioni, ma adesso fanno in modo di farne entrare sempre di più, con degli atti amministrativi, con una potenza democratica, di democrazia diretta, talmente dirompente, che quello che voi avete visto fino adesso non è niente. Io oggi sono orgoglioso di votare questa delibera che viene da un percorso per cui il sostenitore più importante che abbiamo avuto nella nostra forza politica, l'ha citato anche Angelo prima, è già Roberto Casaleggio. Ecco, sono orgoglioso, visto che ci avete detto spesso che noi siamo dei pigiabottoni della Casaleggio, io sono orgoglioso oggi di votare, di pigiare il bottone in conformità a quella che è la mia forza politica rispetto a quello che già Roberto aveva sempre, sempre tenuto come era il primo punto, i cittadini al centro. Se voi avesse fatto nella vostra storia la stessa cosa con i vostri personaggi, tipo Berlinguer o tipo Stefano Rodotà che siamo stati noi a proporre per fare il Presidente della Repubblica, questo Stato oggi sarebbe un'altra cosa, come questa città sarebbe un'altra cosa. Ecco, questo è quello che voi non volete accettare, voi avete tradito anche i vostri maestri e ora pretendete che noi tradiamo i nostri. Io credo che voi, da questo punto di vista, quando parlate del momento 5 Stelle, dovreste in qualche maniera riflettere un pochino su quello che vi manca per poter riacquistare un po' di consenso da parte dei cittadini, perché nonostante anche il 5 Stelle i cittadini stanno diventando sempre più informati e voi state perdendo sempre più consenso. Grazie.